Un rapporto pieno di ricordi e legami con Palermo e la Sicilia in generale. Io non sono nata a Palermo, sono nata a Roma, ma ho continuato a venire qui fin da piccolissima. Eravamo ospiti sempre di Zio Vincenzo all'Arenella praticamente tutte le state. Ho continuato a venire a Palermo ospite di Silvana Palladino. Poi un giorno ho incontrato una persona sulla mia strada e questa persona, che si chiama Beppe Giaconia, mi ha trascinata a vivere a Palermo. La mia vita oramai è palermitana e soprattutto sono diventata, grazie a Leo Luca Orlando, cittadina onoraria di Palermo. Ed è un legame fortissimo. Mia madre rideva molto di questo perché mi diceva sempre che dei cinque figli ero quella che aveva di più il sangue siciliano nelle vene. Ha citato sua mamma che è l'ultima erede che porta il cognome Florio. Tutti sanno che i miei nonni hanno avuto cinque figli, tra cui un bambino, baby boy, Ignazio, che morì purtroppo in tenerissima età. Perciò rimassero solamente due ragazze, mia madre e mia zia, che era più grande di lei. Alla morte di mia madre il nome Florio è finito, non ci sono eredi, perché zio Vincenzo non ha avuto figli, perciò non ci sono eredi Florio. Qui io sono un erede Florio, con la legge italiana poi io posso usare il cognome di mia madre, perciò molte persone mi chiamano Costanza Florio. E essere chiamata Costanza Florio non mi dispiace per nulla, anzi, ne sono fiera. Che ricordo ha della nonna che, come ci diceva prima, lei non chiamava nonna Franca? Tutti noi fratelli abbiamo sempre chiamato mia nonna Greni. Io sono nata a febbraio dello stesso anno in cui lei è morta, lei è morta a novembre, perciò mia madre sicuramente mi ha portato a Migliarino. Mia nonna mi ha preso in braccio, mi ha abbracciato, ero la sua ultima nipote. Mia madre mi diceva sempre che Greni, quando mi vide, disse probabilmente è l'ultima cosa bella che vedrò. Lei è molto impegnata tutt'oggi nella diffusione delle immagini di questa famiglia Florio, che è stata importantissima dal punto di vista culturale e sociale. Mi sono resa conto che il nome Florio veniva affossato, era tenuto in una specie di nebbia e mi sono chiesta perché. È semplice perché. Perché dopo che la mia famiglia ha lasciato Palermo, la Sicilia si è fermata. Non c'è stato più un imprenditore folle, forse, come i miei nonni, che avesse intenzione di portare avanti quello che loro avevano iniziato. Non abbiamo più avuto una classe politica all'altezza di saper governare questa terra splendida, perciò tutto si è fermato, tutto è diventato grigio. Ho iniziato un tour che è un girone quasi dantesco, dal quale ancora non sono uscita, perché vado ovunque, mi chiamano, e cosa che tra l'altro mi fa enormemente piacere, le scuole. I ragazzi, proprio i ragazzi che chiedono ai professori di conoscere questa famiglia. A me piace parlare di Greni, perché Greni, mia nonna, è conosciuta quasi solo e unicamente per la sua bellezza, per la sua eleganza, per i suoi gioielli, per il suo fascino, ma non è mai stata conosciuta per tutto ciò che ha fatto di bene. A me piace ricordare la figura di Greni come donna. Chiudiamo appunto con Greni, che è Franca Florio, sua nonna. Qualche mese fa è ritornato finalmente a Palermo questo quadro. È stata una festa per tutti i palermitani. Chiedo a lei invece le emozioni. È stata una battaglia durissima. Quando ho saputo che questo quadro sarebbe andato all'asta, io ho chiesto a Palermo, ho chiesto alla Sicilia, ho chiesto a tutti di fare una piccola donazione. Perché la nostra intenzione era quella di raccogliere i fondi per far comprare ai cittadini palermitani questo quadro. Con il quadro Palermo ha girato per la seconda volta le spalle a mia nonna. Per fortuna sono riuscita a far vedere questo quadro a una coppia di miei amici, i marchesi berlingeri. Oggi questo quadro è appeso al Palazzo Mazzarino. Mi dispiace per Palermo, mi dispiace per quelle tante persone che mi hanno incontrato subito dopo, eccetera, che mi hanno detto, ah ma perché il quadro adesso è privato, non lo possiamo vedere più. E la mia risposta con un gran sorriso è sempre la stessa. Cosa hai fatto te per salvare questo quadro? Quanto hai donato? Nulla. E allora Donna Franca merita di restare a Palermo perché è la sua città, perché ha amato questa città, ma non è più visibile. Ed è anche giusto, perché adesso sarò odiata da tutti, i palermitani non se la meritano. Grazie a tutti.